l'incredulità di padre brown capitolo 1 la resurrezione di padre brown ci fu un breve periodo durante il quale padre brown godette o meglio non godette affatto di un qualcosa di molto simile alla celebrità sui quotidiani veniva additato come la meraviglia del nonno giorno e divenne persino l'argomento principale delle abituali controverse pubblicate sulle riviste settimanali le sue imprese furono narrate più o meno accuratamente ma comunque sempre in modo affassionato in molti circoli e salotti specialmente nel sud america per quanto possa sembrare illogico e addirittura incredibile per chiunque l'abbia conosciuto le sue avventure come investigatore divennero addirittura il soggetto per alcuni brevi racconti che in quei giorni apparvero su numerosi giornali illustrati è comunque curioso che questa specie di alone di notorietà lo avesse raggiunto in uno dei luoghi più oscuri senz'altro tra i più remoti tra quelli in cui visse la sua esistenza di sacerdote a quell'epoca egli era stato inviato a ufficiare con un incarico a metà strada tra quello del missionario e quello del parroco in uno di quei tratti della costa settentrionale del sud america dove numerose strisce di territori ancora si aggrappano debolmente alle potenze europee oppure minacciano continuamente di diventare repubbliche indipendenti sempre sotto la gigantesca ombra del presidente monroe la popolazione era di carnagione rossa e bruna con qualche accenno rosa per cui si potrebbe dire che fosse ispanico sudamericana o più correttamente ispano sudamericana indiana anche se era in atto una considerevole e crescente infiltrazione di americani del nord di inglesi di tedeschi e di altre nazionalità pare che tutta questa noiosa faccenda abbia avuto inizio quando uno di questi visitatori che di recente era rimasto piuttosto seccato per aver perso una delle sue valigie si diresse verso il primo edificio che apparve alla sua vista e il caso volle che fosse proprio la missione con la sua cappella annessa davanti alla quale correva una lunga veranda e una lunga palizzata sulla quale crescevano attorcigliate a spalliera e in fila delle alti viti nere con le larghe foglie ormai diventate rosse per l'avvicinarsi dell'autunno dietro di queste anch'essi in fila stavano un certo numero di esseri umani seduti anch'essi rigidi come i pali e il loro colore in qualche modo si accordava con quello delle viti questo perché mentre i loro cappelli allargatesa erano neri come i loro occhi impenetrabili la carnagione di alcuni pareva nascere da legname rosso scuro di quelle foreste transatlantiche molti di loro stavano fumando lunghi e sottili sigari neri e in tutto quel gruppo immobile il fumo sembrava essere l'unica cosa che si muovesse il visitatore li avrebbe probabilmente descritti come indigeni sebbene alcuni di loro fossero ancora orgogliosi del loro sangue spagnolo ma in realtà questi non era uno che facesse sottili distinzioni tra spagnoli e perle rossa anzi era piuttosto incline a eliminare dalle scene tutte quelle persone che gli risultassero colpevoli di esserci nate era un giornalista di Kansas City una figura sparuta dai capelli biondi con un naso di quelli che Meredith avrebbe definito avventurosi si sarebbe potuto immaginare che con quel suo naso annusasse la strada per sapere dove andare poiché lo muoveva in continuazione come se fosse la proposcita di un formichiere il suo cognome era Snaith e i suoi genitori in seguito a chissà quale oscura meditazione l'avevano chiamato Saul un fatto che lui aveva avuto il buon senso di nascondere per quanto gli fosse stato possibile a dire il vero ultimamente era aggiunto al compromesso di farsi chiamare Paul sebbene non intendesse affatto trovare un'analogia con l'apostolo dei gentili al contrario per quanto ne sapesse lui il nome del persecutore dei cristiani gli sarebbe stato appropriato poiché considerava la religione organizzata con il convenzionale disprezzo che si impara con più facilità da Ingersoll piuttosto che da Voltaire non fu comunque questo l'elemento dominante del suo carattere che lo portò a rivolgersi alla missione e a quel gruppo di persone in fronte alla veranda qualcosa nel loro ozio contegnoso e in quella loro quiete indifferente accese in lui per contrasto una specie di furiosa efficienza non avendo ottenuto una risposta soddisfacente alle prime domande che aveva rivolto loro cominciò a sostenere una conversazione tutto da solo rimase in piedi là fuori sotto il sole cocente vestito a nuovo nel suo abito lindo e con in testa un panama tenendo stretta come in una morsa la maniglia della sua valigia cominciò così a gridare rivolgendosi alla gente nell'ombra iniziò con lo spiegare loro a gran voce perché secondo lui erano pigri e sporchi ignoranti come bestie e più in basso ancora dei bruti che si autodistruggono se così non fosse stato questo problema avrebbe interessato da tempo le loro menti ottuse la sua opinione era che fosse stata la deleteria influenza dei preti a far sì che loro facessero così miserabili così oppressi e senza speranza alcuna tanto da ridursi a starsene seduti all'ombra a fumare a non fare niente e dovete essere davvero una folla di sciocchi e smidollati disse per essere tiranneggiati da questi boriosi idoli che camminano con le loro mitre con le loro tiare con i loro pivali dorati e con tutti gli altri paramenti guardando dall'alto in basso tutto il resto dell'umanità come se fosse sudiciume abbindolata dalle loro corone dagli ornamenti dai sacri baldacchini come potrebbe fare un bambino davanti a una pantomima è tutto questo perché un vecchio e pomposo prete camuffato come mambo giambo vi guarda come se fosse il signore del mondo e voi voi cosa fate cosa pensate di essere poveri idioti vi dirò ecco perché siete così arretrati nella vostra barbarie e non sapete né leggere né scrivere fu a questo punto che l'eminente prete camuffato come mambo giambo uscì con una fretta tutt'altro che dignitosa dalla porta della missione non esattamente vestito come se fosse il padrone della terra ma piuttosto come un fagotto di abiti neri usati abbottonati attorno a una bassa imbottitura assomigliante a un individuo in pratica come se fosse uno spaventapasseri non portava la sua tiara a supposto che ne possedesse una ma un vecchio cappello largo con molto non molto diverso da quello degli indiani spagnoli che si tirò indietro sulla testa con un gesto di preoccupazione sembrò che stesse per parlare agli indigeni immobili quando si accorse dello straniero e si rivolse a lui con una sollecitudine oh buongiorno posso essere utile in qualche cosa vuole entrare paul snate entrò e quel per quel giornalista fu l'inizio di una considerevole aumento delle informazioni su molte cose probabilmente il suo istinto giornalistico prevalse sui suoi pergiudizi come accade spesso nei giornalisti di valore e cominciò quindi a fare un buon numero di domande alle quali gli venne risposto in modo così interessante che ne rimase sorpreso scoprì che quegli indiani sapevano leggere e scrivere per la semplice ragione che il prete aveva insegnato loro a farlo ma anche che essi non leggevano e non scrivevano a meno che non potessero farne a meno a causa della loro naturale preferenza per la comunicazione più diretta imparò che quella strana gente seduta sulla veranda senza muovere nemmeno un capello poteva lavorare molto duro sul proprio pezzo di terra specialmente quelli tra loro che più di una metà aveva sangue spagnolo e seppe anche che un concorscente meraviglia che tutti loro erano proprietari di un piccolo podere tutto ciò faceva parte di una radicata tradizione locale che veniva trasmessa da nativo a nativo ma anche in questo il prete aveva avuto una certa parte partecipando forse per la prima volta ed ultima alla vita politica sia pure quella locale in tempi recenti quella regione era stata assalita da una di quelle febbre di ateismo potremmo quasi definirle di radicalismo anarchico che periodicamente scoppiavano nei paesi di cultura latina generalmente cominciando come una specie di società segreta e finendo generalmente con una guerra civile o qualcosa di simile il capo locale del partito iconoclasta era un certo alvarez un pittoresco avventuriero di nazionalità portoghese ma come dicevano i suoi nemici parzialmente di sangue negro era il capo di un gran numero di logge di templi di iniziazione di quel genere che da quelle parti riescono a rivestire anche l'ateismo con qualcosa di mistico al contrario il capo del partito più conservatore era una persona decisamente più comune un uomo molto ricco di nome mendoza proprietario di molte fattorie senz'altro rispettabile ma non molto interessante come persona era opinione generale che la causa della legge dell'ordine pubblico sarebbe stata interamente perduta se non si fosse adottata una politica più popolare che doveva sfociare nell'assicurare la terra ai contadini e questo movimento era partito in origine proprio dalla piccola missione di padre brown mentre questi stava parlando con il giornalista arrivò mendoza il capo del partito conservatore era un uomo robusto scuro di carnagione con una testa calva come una pera e un corpo rotondo che ricordava anch'esso lo stesso frutto stava fumando un sigaro profumatissimo ma che gettò subito via con una certa teatralità quando si trovò in presenza del prete come se stesse entrando in chiesa si inchinò curvandosi in modo che sembrò quasi impossibile per un uomo così corpulento in queste sue manifestazioni sociali si comportava sempre in modo eccessivamente serio specialmente nei confronti delle istituzioni religiose era fondamentalmente uno di quei laici che sono molto più ecclesiastici degli ecclesiastici tutto questo metteva parecchio in imbarazzo padre brown specialmente quando mendoza si stendeva questo suo comportamento alla vita privata penso di essere un anticlericale soleva dire padre brown con un tebbole sorriso ma non ci sarebbe neppure la metà del bigotto clericalismo che c'è se si lasciasse fare al clero sa signor mendoza esclamò il giornalista con una rinnovata animazione penso che noi ci siamo già incontrati per caso era presente a quel congresso sul commercio svoltosi in messico lo scorso anno le palpebre pesanti di mendoza batterono velocemente in segno di riconoscimento e sorrise nel suo modo lento sì mi ricordo di lei sono stati fatti dei belli affari in là in un'ora o due disse snit con entusiasmo è un bel guadagno anche per lei immagino sono stato molto fortunato si schernì mendoza con una con modestia non credo esclamò l'entusiasta snit la buona fortuna viene alla gente che sa quando afferlarla e lei ha saputo afferrarla bene con abilità e fermezza ma spero di non averla interrotta assolutamente no disse l'altro mi prendo spesso l'onore di visitare padre brown per fare quattro chiacchiere soltanto una chiacchierata non vorrei mai disturbarlo fu come se questa familiarità tra padre brown e il fortunato e famoso uomo d'affari completasse la riconciliazione tra il prete e il senso pratico di snit gli sembrò probabilmente che una nuova rispettabilità rivestisse la sede della missione ed era quindi disposto a passare sopra quegli occasionali segni dell'esistenza della religione come una cappella e una canonica si mostrò addirittura entusiasta del programma del prete perlomeno nei suoi aspetti più laici e sociali e annunciò di essere pronto in qualsiasi momento a fare da filo telegrafico vivente per per comunicarlo al mondo esterno fu a questo punto che padre brown cominciò a trovare che il giornalista fosse quasi più ingombrante per la sua simpatia che per la sua ostilità e fu sempre da questo momento che paul snate iniziò a tratteggiare per la stampa la figura di padre brown cominciò mandando le lodi del sacerdote in lungo e in largo attraverso il continente al suo quotidiano nel middle west scattò poi delle istantanee che ritraevano lo sfortunato prete nelle sue più comuni occupazioni e le mostrò in gigantesche fotografie pubblicate nei giganteschi giornali dominicali negli stati uniti a completare l'opera ridusse le parole di padre brown in slogan e cominciò a rivolgere con regolarità al mondo un messaggio da parte del reverendo che stava in sud america un popolo meno robusto e meno prepotentemente recettivo della razza americana si sarebbe annoiato a morte con padre brown invece gli ricevette generose insistenti offerte per una serie di conferenze negli stati uniti e quando declinò l'invito le offerte aumentarono con espressione di rispettosa meraviglia una serie di racconti furono scritti su di lui sul genere di quelli di sherlock holmes e messi in circolazione ad opera disneyt che poi glieli presentò chiedendogli assistenza e incoraggiamento quando il prete si accorse che avevano cominciato ad essere pubblicati non diede alcun suggerimento eccetto che farli cessare immediatamente e questo in seguito servì a snaete come testo per una discussione sul fatto che padre brown dovesse scomparire temporaneamente su una montagna allo stesso modo dell'eroe del dottor watson a tutte queste domande il prete aveva scritto al giornale rispondendo pazientemente assicurando che avrebbe consentito a patto che le storie cessassero temporaneamente e che potessero ricominciare solo dopo un considerevole intervallo le sue lettere divennero sempre più brevi e quando gli iscritti alla fine cessarono finalmente respirò inutile dirlo questa strana celebrità raggiunta nel nord si ripercosse nel piccolo avamposto a sud dove padre brown si era invece aspettato di vivere nella tranquillità del suo solitario esilio la parte considerevole di popolazione inglese americana già sul posto cominciò a sentirsi orgogliosa per il fatto di possedere una persona su cui si faceva tutta quella pubblicità i turisti americani dello stesso tipo di quelli che quando sbarcano a londra chiedevano subito con ardore di vedere l'abbazia di westminster sbarcavano su quella spiaggia remota e domandavano a gran voce di lui c'erano anche non molto lontani treni per escursionisti che portavano il suo nome e che riversavano folle di turisti venuti a vederlo come se fosse un monumento pubblico il sacerdote era particolarmente infastidito dai nuovi commercianti del luogo che lo importunavano continuamente perché provasse i loro prodotti e perché diventasse il loro testimonial il peggio era che quando le loro richieste non venivano esaudite queste persone prolungavano la corrispondenza con lui allo scopo di raccogliere autografi da rivendere ai collezionisti padre brown era una persona di buon cuore e capitava spesso che si riuscissero ad ottenere parecchio di quello che volevano fu in risposta a una particolare richiesta da parte di un mercante di vini di francoforte di nome angstein che il sacerdote scritte frettolosamente poche parole su un biglietto da visita che l'avrebbero portato una terribile svolta nella sua vita extane era un ometto rumoroso con il pensne e i capelli spettinati che pareva particolarmente ansioso che il sacerdote non solo assaggiasse il suo celebre porto medicinale ma che gli facesse anche sapere dove e quando l'avesse bevuto accreditando così la sua ricetta padre brown non fu particolarmente sorpreso per questa richiesta perché era abituato alle pazzie della pubblicità scarabocchiò così qualche parola sul biglietto e tornò ad altri affari che gli sembravano un po più sensati venne però interrotto di nuovo niente meno che da una lettera inviata gli dall'avversario politico alvares che gli chiedeva gentilmente di assistere alla conferenza durante la quale sperava di raggiungere un compromesso su una questione di primaria importanza gli proponeva un appuntamento per quella sera in un caffè appena fuori dalle mura della piccola città facendo seguito a questa richiesta il prete inviò un messaggio di accettazione tra mi rubicondo e militaresco messaggero che lo stava aspettando fatto questo e avendo un paio d'ore di tempo prima dell'appuntamento si mise a lavorare per cercare di sbrigare un po dei suoi legittimi affari alla fine si versò un bicchiere di quel vino speciale del signor exnein e dato un'occhiata all'orologio con un'espressione allegra lo beve e uscì nella notte la grande luce della luna era sorta sulla piccola città spagnola cosicché quando giunse al pittoresco cancello del caffè con il suo arco rococò e la splendida frangia di palme che dietro gli facevano da corona gli sembro di assistere a una scena tratta da un'opera spagnola una lunga foglia di palma con i bordi sfrangiati scura contro la luna pendeva dall'altra parte dell'arco visibile attraverso l'apertura e faceva pensare in qualche modo alle mascelle di un coccodrillo nero quell'idea fantastica non si sarebbe fissata nella sua immaginazione se non per un'altra circostanza che arrestò il suo occhio istintivamente allerta l'aria era mortalmente immobile non c'era un alito di vento eppure egli vide distintamente le foglie pendente della palma muoversi si guardò attorno e si rese conto di essere rimasto solo aveva sorpassato le ultime case quasi tutte con porte e finestre chiuse e stava camminando tra due lunghi muri costruiti con pietre grosse non squadrate ma appiattite tra cui spuntavano qua e là strane piante spinose che crescono in quella regione i due muri correvano paralleli lungo tutta la via fino al cancello al di là della quale non riusciva a scorgere le luci del caffè che probabilmente era troppo lontano sotto l'arco si intravedevano soltanto nella pallida luce lunare una più ampia distesa di pavimento lastricato con qualche figo d'india sparso qua e là padre brown aveva un fiuto particolare che gli faceva quasi sentire l'odore del male nell'aria provò uno strano senso di oppressione fisica ma non pensò nemmeno per un momento di fermarsi il suo coraggio che era notevole non era però così forte come la sua curiosità in tutta la sua vita era stato guidato da una fama intellettuale per la verità anche nelle piccolezze spesso cercava di controllarla nelle proporzioni ma quella smania era sempre in lui camminò deciso e aveva appena sorpassato il cancello quando dall'altra parte un uomo balzò come una scimmia dalla cima dell'albero e lo colpì con un coltello nello stesso momento un altro uomo venne strisciando furtivamente lungo il muro e roteando un randello sopra la testa lo abbassò su di lui padre brown si girò su se stesso barcollò e poi si accasciò ma mentre cadeva spunto sul viso un'espressione di mite e immensa sorpresa a quell'epoca viveva nella stessa cittadina un altro giovane americano decisamente diverso da paul snaith il suo nome era john hadson race ed era un ingegnere elettrico assunto da mendoza per sistemare la vecchia città con tutte le più moderne risorse era una figura molto meno conosciuta dai giornali di satire e gossip internazionale e quindi compariva molto meno del giornalista americano sulle loro pagine eppure in realtà l'america contava un milione di uomini del tipo di morale di race contro uno solo del tipo morale disneyt nel suo lavoro era eccezionale ma in tutto il resto race era davvero una persona semplice aveva iniziato come assistente di un droghiere in un villaggio dell'ovest e si era elevato soltanto per il duro lavoro e per il merito nonostante ciò considerava ancora la sua città natale come il centro naturale del mondo abitato era stato educato in una sorta di cristianesimo puritano forse evangelico una specie di cristianità tolta dalla bibbia di famiglia e appressa sulle ginocchia della madre e che per quel poco che si poteva occupare di religione era ancora quella che sentiva più vicino a sé pur immerso tra luci abbaglianti delle più recenti e fantastiche scoperte o quando era sull'orlo più avanzato ed estremo di un esperimento mentre operava miracoli luminosi e sonori come un dio che creasse nuove stelle e nuovi sistemi solari non aveva mai dubitato neppure per un istante che le cose laggiù a casa fossero le migliori del mondo sua madre la bibbia di famiglia la quiete e l'antica moralità del suo villaggio aveva un senso della sacralità di sua madre altrettanto nobile serio di quanto sia a frivolo un francese era sicurissimo che la religione della bibbia fosse davvero la cosa giusta ed era l'unica cosa che gli mancasse in qualunque posto andasse nel mondo moderno non ci si poteva aspettare che si simpatizzasse con le manifestazioni religiose dei paesi cattolici e nell'antipatia per le mitre e i pastorali simpatizzava con snate sebbene lui fosse un po meno ostinato del giornalista non gli piacevano gli inchini pubblici nelle genuflessioni di mendoza ma certamente non era tentato dal misticismo massonico di un ateo come alvarez forse quella vita semi tropicale era troppo colorata per lui troppo tinta di rosso indiano e oro spagnolo tuttavia quando diceva che non c'era nulla da cambiare nella sua città natale la cosa non era una lanteria in realtà si intendeva dire che là c'era ancora qualcosa di semplice senza pretese qualcosa di commovente che lui rispettava profondamente più di ogni altra cosa al mondo con questo atteggiamento mentale vivendo in questa cittadina sudamericana john adams race da qualche tempo aveva sentito nascere dentro di sé un sentimento curioso che contraddiceva tutti i suoi pregiudizi e del quale non riusciva a darsi una spiegazione la verità era questa le sole cose che aveva incontrato nei suoi viaggi che anche solo minimamente gli ricordassero le vecchie cataste di legna le piccole proprietà del suo paese la bibbia sulle ginocchia di sua madre erano per qualche spiegabile ragione la faccia tonda e il buffo ombrello nero di padre brown si sorprendeva ad osservare in maniera inconscia quella figura nera semplice quasi comica che camminava affannata la guardava fissamente con una sorta di morbosa attrazione come se rappresentasse per lui un enigma o una contraddizione aveva trovato qualcosa di amabile lui proprio nel cuore stesso di tutto quello che odiava si sentiva come se fosse stato fino a quel momento orribilmente tormentato da un demone per scoprire poi che il diavolo stesso era una persona assolutamente normale così successe che mentre quella notte guardava fuori dalla sua finestra alla luce della luna vide quel diavolo dalla bizzarra innocenza passare nel suo largo cappello nero e nella sua veste nera strascicando i piedi lungo la via in direzione del cancello lo vide con un interesse che non riuscì a spiegarsi si domandò incuriosito dove fosse diretto il sacerdote e cosa avesse in animo di fare e rimase per un bel po' a fissare alla luce della luna la lunga via dopo che la piccola figura nera era passata e fu allora che vide qualcos'altro che lo lasciò ancora più perplesso altri due uomini che lui riconobbe attraversarono il campo dalla sua finestra come in un palcoscenico illuminato una specie di azzurro riflettore lunare formava con un alone spettrale attorno al gran ciuffo dei capelli che si drizzava sulla testa del piccolo ekstein il venditore di vino e tratteggiava un'altra figura più alta e più scura con un profilo aquilino e uno strano cappello fuori moda nero a punta che rendeva ancora più bizzarra la sua figura come una sagoma e una pantomina di ombre cinesi race rimproverò la sua fantasia e si lasciava giocare così dalla luna perché ad una seconda occhiata egli riconobbe le nere bassette spagnole e i lineamenti marcati del dottor calderon un degno medico della città che già una volta aveva incontrato in veste professionale da mendoza tuttavia c'era qualcosa nel modo in cui due vi sbigliarono tra loro e gettavano occhiate furtive lungo la strada che gli sembrò insolita preso da un impulso improvviso saltò in basso dal davanzale della finestra così com'era senza cappello li seguì furtivamente nel loro percorso li vide scomparire sotto l'oscuro arco e un momento dopo venne da quella direzione un urlo terribile stranamente forte e acuto e ancora più raggiacciante per race perché aveva sentito pronunciare distintamente alcune parole ma in una lingua che non conosceva in un momento successivo udì un rumore di passi precipitosi poi altre grida e uno scoppio di rabbia e di dolore che risuonò tra le torrette del muro di cinta e tra le palme nella folla che si era raccolta ci fu un movimento come se fosse spinta indietro rondeggiando fino oltre al cancello poi l'oscura volta risuonò di altre parole questa volta chiarissime che suonavano come una condanna perché qualcuno gridò attraverso il cancello è morto padre brown race non capì e non poteva mai spiegarsi come avesse ceduto dentro di sé né perché gli venisse improvvisamente a mancare un appoggio su cui fino ad allora aveva contato forse subito verso il cancello giusto in tempo per incontrarsi con quello che con il suo compatriota il giornalista snaite che stava uscendo mortalmente pallido schioccando nervosamente le dita è proprio vero disse sgomento snaite con un tono che in lui sembrava quasi essere riverente se ne è andato il dottore l'ha visitato e non c'è più nessuna speranza qualcuno di quei dannati dagos l'ha colpito mentre attraversava l'ingresso dio solo sa perché sarà una grave perdita per il paese race non rispose o forse non avrebbe potuto farlo ma passando sotto l'arco passo di là verso la scena la piccola figura nera giaceva dove era caduta sui rozzi lastroni inframmentati qua e là di verdi foglie spinose qui la grande folla che si era radunata era tenuta indietro soprattutto dai gesti di una gigantesca figura in primo piano molti ondeggiavano da una parte dall'altra solo movimento delle sue mani come se fosse stato un mago era il varez il vittatore demagogo un uomo alto spavaldo vestito sempre di colori sgargianti e che in questa occasione portava un uniforme verde con dei ricami simili a serpenti d'argento che sembrava di strisciassero sopra attorno al collo aveva una decorazione appesa ad un vivace nastro marrone i suoi capelli fitti e ricci erano già grigi e nel contrasto la sua carnagione che per gli amici era olivastra per i nemici era quella di un octorun sembrava quasi dorata come se fosse una maschera modellata nell'oro ma la sua faccia dai tratti larghi che di solito aveva un'espressione energica e spiritosa in quel momento appariva seria e torva spiegò che stava aspettando padre brown al caffè quando aveva sentito un mormorio seguito da una caduta e uscendo aveva trovato il cadavere stesso sul celciato so quello che alcuni di voi stanno pensando disse guardandosi attorno con orgoglio e se avete paura di me e io so che l'avete lo dirò io per voi io sono un ateo e non ho un dio da chiamare a testimonianza per coloro che a cui non basta la mia parola vi dico il nome di ogni radice d'onore che può essere rimasta a un soldato e a un uomo che io non ho avuto nessuna parte in tutto questo se avessi qui davanti a me gli uomini che l'hanno fatto godrei nell'impiccarli personalmente a quell'albero naturalmente ci fa piacere sentirvi dire questo disse il vecchio mendoza rigido e solenne ritto presso il cadavere del suo alleato questo colpo è stato grave per noi non possiamo ancora dire quello che pensiamo e che sentiamo in questo momento ritengo quindi che ora sarebbe più conveniente dignitoso rimuovere il corpo del mio amico e sciogliere questo raduno così irregolare mi pare di capire aggiunse gravemente rivolgendosi al dottore che disgraziatamente non ci siano dubbi sulla sua morte non c'è alcun dubbio confermò il dottor calderon john race torna al suo appartamento triste con un singolare senso di vuoto anche se gli sembrava impossibile sentire la mancanza di un uomo che non aveva mai conosciuto seppe che il funerale sarebbe stato il giorno dopo perché tutti ritenevano che quel momento di crisi doveva essere superato il prima possibile per paura di tumulti che ora dopo ora diventavano sempre più probabili quando sneet aveva visto quel gruppo di pelle rossa seduti sulla veranda avrebbe potuto crederli immagini di antichi aztechi intagliati in un legno rosso a quella volta non li aveva visti come erano ora che avevano sentito che il sacerdote loro amico era morto sarebbero di certo in sorte avrebbero linciato il capo repubblicano se non fossero stati immediatamente trattenuti dal rispetto per la bara del loro capo religioso i veri assassini che sarebbe forse stato più naturale vinciare sembravano invece essere svaniti nell'aria nessuno ne conosce i nomi e nessuno avrebbe mai saputo se padre brown prima di morire ne avesse visto i volti lo strano sguardo di stupore rimasto di sul volto che apparentemente sembrava essere il suo ultimo sguardo su questa terra probabilmente era dovuto al fatto di averli riconosciuti alvarez ripete con violenza che lui non c'entrava e seguì il funerale camminando dietro alla bara nella sua splendida uniforme verde argente con una sorta di ostentata esibizione di riverenza dietro la veranda una fuga di scalini di pietra saliva fino a uno scosceso spendio coperto di verde difeso da una siepe di cactus qui sopra fu faticosamente istata la bara posta provvisoriamente ai piedi del grande scarno crocifisso che dominava la strada e vigilava sulla terra consacrata sotto nella via c'era un mare di folla che mandava lamenti e recitava il rosario una popolazione orfana perché aveva perduto il proprio padre a dispetto di tutti questi simboli che sembravano essere provocatori per l'uno come lui alvarez si comportò come un ritegno con ritegno rispetto e tutto sarebbe andato bene si disse reis a patto che gli altri lo lasciassero in pace pensò che mendoza gli era sempre sembrato un vecchio pazzo in quell'occasione lo stava ampiamente dimostrando seguendo un'abitudine in uso nelle società più semplici la bara era stata lasciata aperta con il viso del defunto scoperto portando così il pathos al massimo punto di strazio per quella gente semplice tutto ciò che di fatto seguiva la tradizione in fondo non avrebbe nociuto ma qualcuno eccessivamente zelante aveva però voluto seguire un'abitudine in uso tra i liberi pensatori francesi cioè di tenere dei discorsi sulla tomba mendoza ne fece uno lunghissimo e più lui procedeva a parlare più si abbatteva lo spirito di john race e più cresceva la sua antipatia verso i rituali religiosi la lunga lista di antiquati attributi di santità fu srotolata con la lungaggine e l'ottusità di un oratore che a un banchetto inizia un discorso senza riuscire poi a finirlo stava già andando piuttosto male quando mendoza ebbe anche l'ineffabile stupidità di lanciarsi in una dura requisitoria nella quale trova un modo di minacciare i suoi avversari politici nel breve spazio di tre minuti riusciò a provocare una scenata una scenata davvero straordinaria possiamo ben chiederci disse guardandosi attorno pomposamente possiamo ben chiederci dove troveremo simili virtù tra quelli che stoltamente hanno abbandonato il credo dei nostri padri e da quanto abbiamo degli atei tra noi dei leader atei anzi direi addirittura dei legislatori dell'ateismo che siamo costretti a toccare con mano con le loro infame filosofie portino a delitti come questo se ci domandiamo chi ha ucciso il nostro santo uomo potremmo certamente trovare l'africa delle foreste fece capolino negli occhi di albares l'avventuriero ibrido e reis ebbe la netta sensazione che quell'uomo in fondo fosse un barbaro incapace di controllarsi fino alla fine si capiva che tutto il suo illuminato trascendentalismo aveva un tocco di voodoo comunque mendoza non poteva continuare perché albares era balzato su e aveva iniziato a urlare contro di lui costruggendolo al silenzio con polmoni decisamente più potenti dei suoi chi l'ha assassinato ruggì l'ha assassinato il vostro dio l'ha assassinato il suo dio secondo voi egli assassina tutti i suoi servi fedeli e sciocchi come assassinato quello e fece un gesto violento non indicando la barra ma il crocifisso poi controllandosi un po' continua ancora in tono incollerito ma più argomentativo io non io non lo credo ma voi sì non è forse meglio non avere un dio piuttosto che avere uno che vi spoglia così io alla fine non ho nessuna paura di dire che non esista alcun dio non c'è un potere in questo cieco e insensato universo che possa ascoltare la vostra preghiera e restituirvi il vostro amico anche se supplicherete il cielo egli non risusciterà se osassi anch'io domandare al vostro cielo di farlo risuscitare egli non risusciterebbe e ve ne darò una prova sfido il dio che non c'è a destare l'uomo che dorme per sempre ci fu un silenzio impressionante il demagogo aveva ottenuto il suo effetto c'era da aspettarselo gridò mendoza con voce piena di collera quando si permette a uomini come lei una nuova voce lo interruppe una voce acuta e stridola con con accento americano fermi fermi gridò snake sta succedendo qualcosa giuro che l'ho visto muoversi corse su per la scala e si precipitò verso la bara mentre la folla sottostante si agitava con indescrivibile frenesia un momento dopo il giornalista apparve a quella gente con un viso pieno di stupore dopodiché fece un segno con il dito al dottor carderon che si affrettò ad andare a conferire con lui quei due uomini si scostarono nuovamente dalla bara tutti poterono vedere che la posizione della testa era cambiata un urlo di eccitazione si alzò dalla folla e sembrò arrestarsi improvvisamente un attimo dopo come tagliato a mezz'aria perché il prete nella bara diede un gemito e si alzò su un gomito guardandosi da prima attorno poi verso la folla con occhi annebbiati e incerti john adam race che fino a quel momento aveva conosciuto solamente i miracoli della scienza non seppe mai descrivere negli anni seguenti lo scompiglio dei giorni che seguirono gli parve di essere stato sbalzato via dal mondo del tempo e dello spazio e di vivere nell'impossibile in mezz'ora l'intera città e il distretto furono informati di una qualcosa che non veniva più visto da quasi 2000 anni un popolo medievale trasformato da un miracolo strabiliante in una folla di monaci una città greca dove il dio era sceso tra gli uomini migliaia di persone si prostrarono nella strada centinaia presero i voti sul momento e anche gli stranieri come i due americani non riuscivano a pensare né a parlare altro che di quel prodigio lo stesso alvarez era rimasto scosso ovviamente se ne stava seduto con la testa fra le mani e in mezzo a tutto questo turbini di beatitudine c'era un piccolo uomo che non riusciva a farsi ascoltare la sua voce era sottile e debole mentre il baccano era assordante faceva in continuazione piccoli e deboli gesti che sembravano più di irritazioni che d'altro si affacciò al parapetto al di sopra della folla facendo le segno di calmarsi con movimenti che ricordavano l'agitarsi della delle corti e ali di un pinguino ci fu finalmente un po di tregua nella baraonda e allora padre brown per la prima volta toccò il colmo dell'indignazione nei confronti dei suoi figlioli o che sciocchi disse forte con voce tremante o siete sciocchi sciocchi poi parve improvvisamente riprendersi tanto che si slanciò verso la scala con il suo passo normale e incominciò a scenderla precipitosamente dove state andando padre chiese mendoza con più venerazione del solito all'ufficio del telegrafo disse padre brown di fretta cosa no naturalmente non è un miracolo perché dovrebbe essere un miracolo i miracoli non sono una cosa che si trova così a buon mercato e rotolò giù per le scale mentre la gente si gettava davanti a lui implorando la sua benedizione vi benedico vi benedico disse padre brown in fretta dio benedica voi tutti e vi dia un po di più di buon senso si precipitò allora con straordinaria rapidità verso l'ufficio del telegrafo da dove telegrafo al segretario del suo vescovo qui girano alcune pazze storie circa un miracolo spero vivamente che sua eccellenza non vi dia credito non c'è nulla di vero compiuto questo sforzo barcollò un poco come reazione allo sforzo e john race dovette sorreggerlo afferrandolo per un braccio lasci che l'accompagni a casa padre disse lei merita di più di quanto è in grado di darle questa gente qualche ora dopo john race e il prete erano seduti nel presbiterio la tavola era ancora in gombra dalle carte con le quali padre brown aveva combattuto nei giorni precedenti la bottiglia di vino e il bicchiere vuoto erano ancora lì dove aveva lasciati e ora disse padre brown in modo burbero posso cominciare a pensare io non mi metterai a pensare troppo seriamente proprio adesso disse l'americano penso che lei abbia bisogno di riposo e poi a che cosa deve pensare ho avuto spesso l'incarico di investigare su degli assassini e a come erano successi disse padre brown ora debbo investigare sul mio se fosse in lei disse race come prima cosa mi verserei un bicchiere di vino padre brown annui si alzò e riempì un altro bicchiere poi lo sollevò l'annusò lo guardò pensò guardandolo contro luce e lo postò di nuovo alla fin di queste operazioni si rimise a sedere rivolgendosi al suo nuovo amico e disse sa cosa ho pensato mentre ero morto lei forse non ci crederà ma ho provato un senso di enorme stupore beh rispose race suppongo che sarà rimasto stupito per aver preso un colpo in testa padre brown si piegò verso di lui e disse a bassa voce in realtà ero stupito di non aver ricevuto un colpo in testa race lo guardò per un momento come se pensasse che il colpo invece doveva essere stato anche troppo efficace ma disse soltanto che cosa vuole dire voglio dire che quando quell'uomo calò il randello per assestarmi un gran colpo lo fermò prima che mi toccasse la testa e non la toccò affatto nello stesso modo fece l'altro che fece come se volesse vibrarmi una coltellata ma che non mi fece nemmeno un graffio è successo tutto come se fosse una commedia anzi penso che lo fosse ma poi seguì la cosa davvero straordinaria guardò pensosamente le carte sul tavolo per un momento e poi continuò sebbene non fossi stato toccato né dal coltello né dal bastone ho cominciato a sentirmi le gambe che cominciavano a cedermi e la vita che mi sfuggiva sapevo che era stato abbattuto da qualcosa ma non erano state quelle armi sa di che cosa penso si tratti disse indicando il suo bicchiere di vino sul tavolo race prese il bicchiere di vino lo guardò e lo annusò penso che lei abbia ragione disse ho cominciato la mia carriera come farmacista e ho studiato un po di chimica non posso dirlo con certezza senza fare prima un'analisi ma credo che ci sia qualcosa di strano in questa roba ci sono droghe con le quali gli asiatici inducono un sonno temporaneo che assomiglia alla morte proprio così confermo il sacerdote con calma e la mia impressione è che questo miracolo sia stato manipolato per una ragione o per un'altra la scena del mio funerale è stata preparata e a un'ora prefissata penso che la cosa faccia parte di quella frenetica smania pubblicitaria che ha persino snake anche se stento a credere che volesse spingersi fino a questo punto soltanto per quello dopo tutto una cosa è fare degli articoli su di me e farmi passare per una sorta di Sherlock Holmes e un'altra mentre stava parlando la sua faccia si alterò di colpo le sue palpebre che sbattevano si chiusero improvvisamente si alzò come se si sentisse soffocare poi allungando una mano tremante si fece strada verso la porta dove sta andando chiede l'altro meravigliato se vuole saperlo disse padre brown che si era fatto pallidissimo sto andando a pregare o meglio a lodare dio non sono sicuro di capire che cosa le è successo sto andando a pregare dio per avermi così stranamente e così incredibilmente salvato e salvato per un pelo naturalmente disse race io non appartengo alla sua religione ma mi creda ho religione abbastanza per capirla naturalmente vuole ringraziare dio di averla salvata dalla morte no disse il prete non dalla morte dal disonore l'altro perplesso se ne rimase zitto e padre brown riprese a parlare quasi con un grido e se si fosse trattato solo del mio disonore ma si trattava del disonore di tutti quelli per cui lotto e il disonore della fede a cui essi stavano tramando cosa sarebbe potuto accadere il più enorme e orribile scandalo montato contro di noi da quando l'ultima menzogna fu soffocata nella gola di titus otas ma di cosa sta parlando domando perplesso il suo compagno ebbene sarà meglio che glielo dica subito disse il prete e rimettendosi a sedere riprese con più calma la spiegazione di tutto mi è balenata quando ho accennato a snaith e a sherlock holmes ora mi ricordo quello che ho scritto a proposito del suo assurdo progetto la cosa si presentava abbastanza normale eppure credo che mi avessero ingegnosamente manovrato perché scrivessi proprio quelle parole che più o meno erano di questo tenore sono pronto a morire e a tornare in vita come sherlock holmes se questo è il modo migliore non appena mi sono ricordato di questo ho realizzato che mi hanno fatto scrivere molte cose come queste tutte convergenti verso la medesima idea ho scritto come ad un complice dicendo che avrei bevuto il vino drogato ad una certa data ora allora comincia a capire resbalzo in piedi in preda un enorme stupore si disse penso di cominciare a capire e se avrebbero confiato il miracolo poi l'avrebbero pubblicizzato e quel che peggio che avrebbero potuto provare che io facessi parte del complotto sarebbe stato il nostro finto miracolo questo è tutto ed è una faccenda così vicina all'inferno come ne ne io ne lei spero non sapremo mai detto queste parole dopo una pausa riprese con voce tranquilla certamente avrebbero potuto scrivere molte cose interessanti su di me reis guardando la tavola disse cupamente quanti sono i farabutti che hanno preso parte a quel complotto padre brown scosse la testa più di quanti io voglia pensare temo ma spero che alcuni di loro non siano stati che degli strumenti alvarez può pensare certamente che tutto sia lecito in guerra del resto è uno spirito singolare temo molto invece che mendoza sia un vecchio ipocrita le dirò non ho mai avuto molta fiducia in lui e sono certo che mi odiasse per i miei interventi in materia industriale ma tutto questo può aspettare ringrazio solo dio di esserne scampato e soprattutto di aver subito telegrafato al mio vescovo john reis sembrava molto pensieroso mi ha detto del molte cose che non conoscevo disse alla fine e ora mi sento disposto a dirle l'unica cosa che lei non sa posso immaginare che tutti questi farabutti avessero calcolato bene ogni cosa credevano che chiunque si fosse svegliato vivo in una bara e vedendosi canonizzato come un santo diventato addirittura un miracolo vivente per l'amministrazione generale sarebbe stato trascinato dai suoi adoratori e avrebbe accettato la corona di gloria caduta gli da cielo e io penso che i loro calcoli si basassero su una psicologia abbastanza pratica per la maggior parte degli uomini ne ho visti tanti e di ogni sorta di uomini e ogni sorta di posto ma le dirò francamente che non penso ci sia un uomo su mille che sarebbe capace di svegliarsi in quelle condizioni perfettamente padrone di sé e che quasi ancora parlando nel sonno potesse avere la saggezza la semplicità e l'umiltà di race fu molto stupito nel sentirsi così commosso con la voce che gli tremava padre brown stava fissando in modo astratto la bottiglia sulla tavola con lo sguardo leggermente annebbiato e bene disse che ne direbbe se adesso ci aprissimo una bottiglia di vino vero l'incredulità di padre brown capitolo 1 la risurrezione di padre brown grazie a tutti